In aula ad Avellino le linee programmatiche dell'amministrazione guidata da Laura Nargi. La neosindaca ha disegnato la sua idea di città, ricevendo il voto favorevole di 24 consiglieri. Entrano dunque ufficialmente in maggioranza anche gli esponenti del patto civico di Rino Genovese. Critiche sono arrivate dall'opposizione sia sulle linee programmatiche che sulla composizione dell'aggiunta appena nominata. Siamo un'amministrazione nuova, ha detto Nargi, ma non rinneghiamo il passato. In questi anni la città è rinata. Dirizi chiari di governo che appunto vengono dal nostro programma elettorale, un programma condiviso anche con il patto civico. Ovviamente a questo documento che io ho detto in aula essere aperto al contributo di tutti, anche alle raccomandazioni della minoranza, voglio dire che aggiungeremo nelle prossime settimane, più probabilmente mesi, il piano strategico della nostra giunta. Avevamo bisogno, ovviamente abbiamo bisogno di lavorarci su, abbiamo bisogno di capire lo stato dell'arte dell'ente. Per qualche mese comunque è stato fermo. Io in queste settimane, che sono arrivata da poche settimane, ho lavorato incessantemente, quindi insieme alla mia giunta che ho nominato solo una settimana fa, già ci siamo messi al lavoro, però per fare un piano strategico abbiamo bisogno di più tempo. Non capisco chi ha parlato di giunta a tempo, giunta non a tempo. Queste sono chiacchiere da bar. Io ho parlato di una prima fase, una fase ovviamente dove ci sono gli assessori tecnici, affiancati ovviamente dalla politica e quindi dai miei consiglieri di maggioranza. Poi ovviamente già ho previsto, perché in una previsione di governo ampia, duratura, lungimirante, già ho immaginato comunque l'innesto della politica, perché politica e tecnici si affiancheranno.